ed eccola qui la seconda atleta che entra allo stadio Real Guido Baldi ed è Tatiana Gabellone SS di centro ester Napoli eh Tatiana Gabellone quindi non ne sappiamo se abbia superato o oppure ci sia stata magari una squalifica da parte di Maria Vittoria Becchetti che era saldamente in seconda posizione. Ricordiamo che anche anche nell'ambito di questa gara ci sarà il da consegnare il trofeo alla memoria la marciatrice Sidoti premiazione che verrà effettuata subito dopo l'arrivo ed eccola qua Tatiana Gabellone altra atleta in entrata per questi ultimi trecento metri eh con il pettorale quarantaquattro ed eccola qua Gabellone secondo posto per lei quarantasette quarantasei e ottantacinque il suo tempo la terza atleta che vedete in pista è Nicole Colombi dell'atletica Brescia millenovecentocinquanta premiazione del campionato tiotreano della gara di marcia su strada dieci chilometri donne trofeo Anna Rita Sidoti consegnerà le medaglie il trofeo il presidente della federazione italiana di atletica leggera Alfio Giomi terza classificata medaglia di bronzo Nicole Colombi atletica Brescia millenovecentocinquanta seconda medaglia d'argento Tatiana Gabellone centro ester Napoli grazie millenovecentocinquanta grazie millenovecentoclichen grazie millenovecentocinquanta ciumi grazie millenovecentoc 002 grazie millenovecentoculare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.